Nell'undicesima giornata del campionato di eccellenza la battipagliese riesce a battere la palmese dinanzi al pubblico amico del Pastena per tre reti a due al termine di una gara al Cardiopalma. Dopo un primo tempo giocato molto bene dalle zebrette terminato in vantaggio per 2-1 grazie alla doppietta di Di Biase con il gol nel mezzo di Manzo e la ripresa che è ricca di episodi. Prima il gol del pari di Siciliano sul calcio di punizione, poi l'errore dal dischetto di Romano parata di Prima Dei e infine la rete del definitivo 3-2 di Saginario allo scoccare del novantesimo. Dopo sei minuti di recupero la battipagliese può festeggiare una vittoria strappata con i denti.